ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi video sul corso battery maker e allora se segui il canale da qualche mese ne hai già sentito parlare hai già forse visto questo che la brochure allora questo è un canale il mio canale Fox Tech Channel è un canale che tratta tecnologia fai da te e voglio sempre più diciamo espanderlo e prendere tantissimi altri settori e allora il corso l'ho realizzato qualche mese fa è un corso specifico sulle batterie Lidio ma non un corso così ragazzi è un corso da 5 ore video 5 ore che è normale che non devi vedere tutte in una volta te lo vedrai in vari giorni perché perché ragazzi è un corso non teorico ma pratico al video deve corrispondere la tua pratica infatti se poi clicchi sotto ti scarichi questo questo è il volantino brochure di presentazione ci sono varie alternative di corso questo vuol dire che non ti fornisco solo il corso ma anche del materiale dei kit chiamiamoli così kit di inizio sperimentazione in più ti darò anche un faldone di documenti dove potrai andare a trovare listini prezzi dei miei fornitori preventivi i migliori anche fornitori per quanto riguarda celle litio bms carica batterie attrezzatura diciamo generica su questo settore il corso è diciamo pensato per chi vuole avviare una sorta di nuova attività perché ragazzi perché le batterie Lidio ormai sono il presente saranno il futuro oggi ci sono in circolazione bici elettriche monopattene elettrici elettro utensili con batterie a Lidio e qualsiasi cosa funziona a batteria oggi è a Lidio perciò servono tecnici serve gente preparata che possa andare a aggiustare riparare o ricostruire ove la diciamo riparazione non può essere diciamo messa in atto lo devi fare da zero ok perfetto detto questo con questo corso tu potrai andare a iniziare la tua attività sia diciamo da sperimentale cioè un'attività iniziale dove approcci con la tecnologia inizia a fare qualcosina per poi vedere che nel concreto girano soldi perché ragazzi girano soldi è un settore che muove tanti 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 soldi anche perché perché ancora oggi chi produce batterie in italia si possono forse contare su una mano e tra questi sono io uno io ho iniziato questo settore anni fa cinque anni fa ho fatto tantissime riparazioni tantissime batterie costruite da zero sul canale trovi i video diciamo che lo dimostrano nel corso degli anni con la mia attività parlando del corso considerando il periodo che stiamo attraversando considerando i problemi economici voglio venirvi incontro anche perché perché sotto ai miei video o anche sui social o anche tramite mail molti mi hanno scritto il significato poi alla fine il senso del discorso è uno perché questo corso costa così tanto se costava di meno potevo essere interessato ad oggi ho venduto sull'ufficialità intorno ai 25 corsi tutti con feedback positivo sulla pagina facebook trovi alcuni screenshot e messaggi dei ragazzi che hanno appunto comprato il corso per studiarci oggi però voglio fare un altro passo considerando che ci ho lavorato tanto 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 oltre 6-7 giorni come riprese editing preparazione dei temi perché si parlerà ragazzi anche della tematica commercialista tasse come avviare l'attività cosa serve nel laboratorio come attrezzatura quali carica batterie dove acquistare la materia prima anche solo il faldone di documenti che vado a fornirti quello vale quello che vale ragazzi perché tutto ciò che io ti sto raccontando in questo video corso che ti sto spiegando più la documentazione stampata ragazzi questi sono anni e anni di miei sacrifici di mio lavoro che io ti sto passando servendo in un piatto d'argento valutando ripeto il periodo e ringrazio anche chi prima di questo ulteriore diciamo sconticino ha acquistato il corso loro riceveranno in più un altro video particolare dedicato a loro perché perché i ragazzi lo hanno pagato in pieno il prezzo da volantino per voi c'è lo standard quello normale quello che loro avevano prima ed è uno sconto di circa un 40% in più sul totale meno di questo ragazzi non si può anche perché perché la fatica è stata in mare non stiamo parlando di un corso sciocco come fare questo come fare quello ragazzi qua si sta parlando di un vero e proprio lavoro d'oro io vi sto aprendo le porte su una tecnologia che è la tecnologia del futuro un tecnico specializzato oggi che ha competenze buone su questo settore troverà sicuramente un posto di lavoro e in più se non vuole diciamo lavorare per qualcuno potrà avviare la sua attività di riparazione di pacchi batterie che poi a quello annesso c'è tutto il mondo dei motori c'è tutto il mondo dei bms dei regolatori di carica dei caricabatterie è un mondo enorme ragazzi un mondo enorme che sta aspettando solo nuove figure approfittiamo di questo periodo di pausa per questo ho sceso i prezzi non ve li dirò a voce ma li troverete sotto il link del documento è un pdf lo puoi andare a leggere c'erano tutte le varie spiegazioni tutta la grafica metodo di pagamento e c'era anche prima il modalità di pagamento a rate tre rate però l'ho tolta ragazzi l'ho tolta perché non veniva utilizzata quasi nessuno o meglio nessuno la scelta anche perché era forse un poco scomoda si pagava un totto ora un totto tra due mesi anche ragazzi scomoda per me e anche per chi acquista perché perché doveva aspettare i due mesi perciò l'ho tolta non ne vale la pena e allora il corso ragazzi è un corso video giusto sono cinque video che verranno forniti dentro una pennetta solo quella pennetta ragazzi costa perché ovviamente sono gigabyte di video e allora il corso è formato composto da cinque video più o meno lunghi in totale sono cinque ore di lezioni per una quarantina di giga sicuri ragazzi perciò io a questo vi devo allegare anche sul costo che vi faccio pagare c'è oltre le spese di spedizione ovviamente c'è anche il costo della pendrive perché ovviamente tutto questo va a mettersi in una pendrive o in una micro st poi questo lo decideremo dopo ai ragazzi fino a oggi ho fornito il corso il pendrive perciò tu a casa riceverai una pendrive ufficiale fox tech con il corso il corso più se acquisti anche il kit fai da te avrai tutti i kit fai da te cosa sono i kit fai da te kit fai da te uno è un kit che ti aiuterà a costruire un pacco batterie 3s tanto per iniziare ci saranno le celle ci sarà il bms ci saranno le striscette saldanti o poi in aggiunta c'è anche il oltre questo 3s c'è anche un set power bank potrai a costruire un power bank con le celle con l'elettronica le striscette per saldare le celle eccetera eccetera poi in più con la prima la seconda la terza la quarta alternativa che è quello un po più costosetta ma poi ragazzi per quello che è il corso e quando lo vedrai lo capirai quanto fatica quanto lavoro non solo di editing ragazzi quanto sudore ho buttato per andare a creare questo corso e non esistono corsi simili in italia e anche in europa ne sono certo perché non ne ho visti non ne ho letti non me ne sono passati anzi se tu conosci qualcuno che ha fatto un corso simile puoi anche linkarmelo e andrò a prenderne altro e mi farò anche un occhio per capire super giù i prezzi per capire cosa ti offre perché poi ovviamente io posso fare un corso con questa tematica ma con batterie litio come fare come avviare un'attività eccetera eccetera però poi nel concreto parlo per un'ora e cosa mai ti posso dire in un'ora ragazzi cinque ore attenzione cinque ore di video sono il 10 per cento di ciò che tu devi sapere però queste cinque ore sono le chiavi che poi che aiuteranno ad espandersi cioè tu sapendo quello che io ti spiegherò sul corso e mettendolo realmente in pratica meccanicamente andrai a collegare il tutto e ti farai ragazzi vi farete un bagaglio personale sulla tecnologia che non ha rivali ragazzi e questo ve lo garantisco è un corso fatto bene 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 non lo dico io ma lo dicono tutti quelli che tramite messaggi tramite mail tramite messaggi privati anche su whatsapp mi hanno ringraziato e comunicato appunto un feedback perché io alla fornitura poi nel fogliettino che ricevete e scrivo sempre fornisci mi se vuoi un feedback una parte lo ha fatto l'altra parte forse per tempo forse perché ancora effettivamente non lo ha finito perché ripeto sono cinque ore ma non puoi tu andare a vederti cinque ore di video uno perché sono pesanti due perché ci vuole concentrazione e tre perché ci vuole tempo tempo per capire una cosa e metterla in pratica capirne un'altra e metterla in pratica capirne un'altra e informarti ed agire ragazzi ci vuole tempo questi sono i miei manuali sulle batterie che trovi su amazon questo è inglese è un generico questo è un manuale per pannelli solari ma non è uno di quelli che riceverai se lo vuoi comunque lo trovi su amazon questo è dedicato ai fusibili ma non è quello uno è questo pacco batteria 7s qui avrai uno riassunto del riassunto del riassunto del riassunto di ciò che vai a vedere e studiare tramite il corso questo poi abbiamo il 6s che è questo e poi abbiamo il 10s è uno degli ultimi ragazzi fascicoli tecnici cartacei che ho realizzato questi sono tutti quelli tutti alcuni che manca il 10s manca il 10s in inglese e ne mancherà qualche altro nei prossimi giorni quando tempo quando un attimo d'oro andarne a fare altri questo è quello per la palestra non so se lo conosci ma è il diario del palestrato sempre un mio libro sto lavorando anche ora a un nuovo progetto a un nuovo libro che te lo presenterò nei prossimi giorni comunque ragazzi il corso ora è alla portata di tutti l'ho fatto per voi perché so che non avete effettivamente la possibilità è accessibile ora a tutti fate un piccolo sacrificio prendetelo se vi interessa e sono certo che ne resterete davvero davvero soddisfatti perché quando faccio una cosa la faccio col cuore ci metto tutto me stesso la mia professionalità i miei anni di esperienza mi hanno portato a fare anche questo a potervi tramandare qualcosa qualcosa di importante e nello specifico qualcosa che deve crescere deve migliorare deve svilupparsi ancora di più perché da qui a qualche mese qualche anno le tecnologie andranno maturando e ci saranno anche degli upgrade perciò già parti dallo studio delle basi inizia la tua attività e poi da lì piano piano andrai ad aggiornarti per questo video ragazzi è tutto mi raccomando ripeto iscriviti al canale seguimi e niente like loro sono su amazon che ti aspettano spedizione gratis tramite amazon prime ciao e al prossimo video ciao